rakshasa puoi giocarlo solo in best of one o in alchemy allora io non ho ancora giuro fatto five color speranza si prendo sniper e si forza monred o si splash a sniper in gruel in golgari sempre del solito è una bella carta se forzo rosso tanto non è forzare rosso, rosso è aperto e basta il bore è figo il bore è figo però anche Reconer e Rebuke sono forti a questo punto lo tolgo il rosso completamente devo togliere la faccia scusate iniziare con sniper è bello sono tre carte forti ok qui c'è la scelta qui devo vedere allora è possibile che io riesca a fare artefatti rakdos considerando che mi arriva abito la pick 4 credo che lo steelbreaker possa tornarmi tranquillamente tanto rosso è sempre aperto so che un zanna è forte direi il problema di rakdos è che ha bisogno delle due o tre carte fondamentali se le becchiamo bella se no amen se becchiamo le due carte forti sette se no due è molto semplice rakdos non ha una via di mezzo rakdos è sette vittorie o due o una ovviamente sto parlando dell'incudine no chi come è sottovalutato gli Alice in Chains scusami panda sono amati nel mondo ancora gli Alice in Chains non sono mainstream palla però wow speriamo mi torni scimia però ade ecco vedi quando il rosso è così quando il rosso ti parte così sei felice anche di fare rosso a me piacciono gli Alice in Chains cioè non sono un fan non è che dico boia mi sfondo di album di Alice in Chains madonna mi impazzisco le so tutte no però ci sono quelle 3-4 canzoni mi piacciono molto e le ascolto spesso tipo questa questa è il garbo a morire credo sia la migliore è un po' più è un po' mainstream questa è un po' più la più commerciale diciamo alla fine non c'è un cazzo prendo Shigeki qui non c'è un cazzo prendo Shigeki il serepento se siamo molto 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 aggressivi un Grull che così mi prendo anche magari un Rebuke che passa avendo fan cosa ho preso al posto di Rebuke cazzo di niente a questo punto careful cultivation l'idea è andare possibilmente verso un Grull modifiche o è meglio il favor se si va verso Grull modifiche no è meglio il coltiviche ho preso il porco ho fatto bene no ho fatto bene allora qui mi arriva Fade così tardi vuol dire che è molto molto probabile che siamo Grull con Ice sta bene peccato sto Beetle Fade numero 2 vogliamo Akironin vogliamo Steelbreaker vogliamo Steelbreaker non c'è un cazzo Muccone per il meme oh Cotose eh no c'è Spinging Weero Chicco ma come fa a valutarmi di più Surge ok Surge forte ma Spinging Weero Chicco veramente non lo vuoi ti pazzo Beetle mi sa che è un salutone servono i droppi a due allora Embrace e Ink sono due removal fuori di testa però io i removal gialli ho e tecnicamente ho troppi pick forti verdi e rossi per prendere anche doppio nero raga senza fix questo diventa un tricolor male speriamo vediamo e qui è terra devo prendere la terra terra ok exploit forte bene terra però c'è rebuke allora removal ce l'ho già è forte devo solo fixare il mana non c'è un cazzo c'è il kami buonasera salve sì qui qui che rì alle 7 va tutti da Akira dopo quante creature che modificano not enough decisamente not enough season tormento ma non lo giochiamo è tornata Eiko Amberkeeper a sto punto meglio no insomma comunque meglio tra i nè no mi sta meglio cioè se il verde è splescino cerchiamo di trovare meno verde possibile vorrei potrei volerlo giocare 2x uuuu quante cose belle in questa busta ma come è Takenuma sopra reactor ma che cazzo stia dicendo te fatti 6 sono un po' pochi ma ne voglio trovo di più terra terra sopra secondo boer sì absolutely yes pazzo removal ci piace a parte sta mazza curva bassissima di oh boy cazzo ottimo in viso server splash giusto questo se ne va vaffanculo server ci sta ci sta ok mamma mia torna tutto torna riboar molto basso di drop a 2 dovevi prendere il train no i terri siamo a posto direi gloom shrieker fortissimo smelter smelter sopra boer subito infatti 8 basta in avanzano terra doppia let's go più fixati di oh si si scoppia riglum shrieker difficile da montare ma ti dirò che no dirò che forse forse uh mamma mia voglio entrambi però allora mi servono i drop a 2 ne ho pochi è meglio song shaper mi sa che devo passare il porco non lo giocherò ok quindi 2 foreste volendo anche una il mana è fixato da morire bellissimo quindi il keeper se ne va un samurai se ne va probabilmente devo togliere una terra comunque anche se ho tutto sto fixing quindi ho una ho 5 6 7 8 fonti nere troppe 5 6 7 8 9 fonti rosse va bene 3 possibili 2 3 4 5 6 fonti verdi no tolgo una foresta è vero che ho il doppio verde nel kick forse tolgo un po' due forse tolgo un po' due da toglie due carte la guardiamo il removal una exploit react kick microwave due fade forse tolgo un fade oh 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 pink per forza sniper via di mezzo tanto removal valbello però ho tanto verde quanto nero però ho il doppio nero il verde mi basta però il doppio verde il doppio verde lo voglio tipo a turno 6 7 per il kick quindi tranqui doppio verde poi ho svariate combo con kikijiki che è molto bello ho il preserver ho lo sniper che è tipo questa è rotta questa è rotta se faccio la combo di questa è rotta 41 special a 16 terre no 41 special si fa 17 quando vuoi 16 e mezzo ho abbastanza incantesimi artefatti che il kami è fortissimo e forse Yamazaki no no è forte per l'altro sono già virtualmente a 16 terre più Sokenzan che non è per tante parti 9 vanno benissimo e poi li rigioco con Eiko no 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 va bene il reactor poi c'ho kikijiki eh ragazzi kikijiki artefatti infiniti io mi copio un boar roba del genere il reactor gonfia all'infinito c'ho il kagatesori il goblin kagatesori pizza questo non è quando casti è quando entra in campo quindi possono essere token non dice non token artifact quali sono i colori forti di questa espansione Ezestyle90 intanto benvenuto nel canale chat spam di cuori per Ezestyle che è la prima volta che scrive facciamogli sentire l'ingresso in questo caloroso ambiente che è il server della gleba pomeridiano del magic e i colori forti di queste espansioni il verde è sbroccato il verde è fuori di testa seguito dal nero e dal blu e poi ci sono il bianco e il rosso il bianco ha tante carte forti ma non è forte in generalissima e poi c'è il rosso che viene considerato schifo se non eh forse si è Steelbreaker ok così mi piace ed è forse io voglio le stesse fonti nere raw e verdi no così sono le stesse fonti nere e verdi ho bisogno di tutto sto rosso non ho mai doppio rosso anche se ho tanto rosso nel mazzo no faccio un cameo botta entro un'oretta stasera dopo cena commento un paio di partite e vado via due tre quattro cinque sei quattro cinque sei sette cinque sei sette otto nove sono troppe è così secondo me no è così quattro cinque sei sette otto rosse quattro cinque sei sette nere tre quattro cinque sei sette verdi perfetto perfetto lì dovrei arrivare a turno tre che ho tutti i colori di base con questo mazzo di base di base di base vuol dire che non funzionerà mai mamma mia buono il ciobar pelli chiaramente prima mano tre foreste solo arte rossa al top non Volevate il mana fixato Impossibile Che non lo vuoi il tron naturale Peraltro Fable Anvil Copio boar Attacco Sacrifico Ninji Eh questo va fiocinato Ah vero bet Non serve adesso Meglio se non mi ha aperto Lo light Oppo sul tie degli dèi Anche lui Tron naturale Crab Crab mi sento male Ok Ok Very good Very good Non ha Non ha crabbato prima Perché dovrebbe Crabbare adesso Non capisco O è pieno di removal O c'ha veramente una Di merda Oh cazzo Ma cosa fa 360 mythic Sul tie Figlio di Sei un pezzo di merda Oh cazzo C'ha detto Madonna sul tie control Che fastidio Però mi devi Va te Kiki Ma ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Ora fa fade Fade into antiquity Subito Ce l'ha C'ha tutto Malicious Malfunction Non lo picca Nessuno Arriva 360 mythic Control Sul tie Con la Vratta Maledetto Guardalo 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 Le risposte Brutte Perfette Queste Queste sono le carte Brutte Perfette Chiaro Stasera Casto Un paio di partite Falcia Ha fatto tanto Stunvil Vabbè Un altro Gloom Shrieker Dalle 18 No Doposcena Passo Ok Ok pezzo Questo è un buon pezzo Para Devo farlo Very good Allora 3-3 Basta E avanza E gonfio Il boar Boia Che pescata Del Del Missile Vero Che pescata Vera Di magic Ho fatto Cazzo 3-2 3-4 5 Dove tradare Con tutto Non me ne vale la pena F Si cerca risposte Si rema Signor Vratta Vratta Signor Vratta Rimuovo Rimuovo Kiki Kiki Kameshi Senza Bianco Notevole Kameshi Senza Bianco Mi hanno detto È forte Quanto Rischioso No Non aveva Niente Eh No Vabbè Però Non potevo Rischiare Vabbè Spacco Tutto Purtroppo Lo vedi Troppo Tardi Vabbè Purtroppo Nel senso Devi giocare Come se Arena Non dicesse Niente No Troppo Che Oppo Non aveva Istantanei L'ho visto Solo Le reazioni Attaccanti Se no Avrei fatto Wheel kick Voglio Problema Di poco Guardando Sta Situazione Eason Mi rimetti In mano Il Boar Ho l'ital Comunque Saluto Inizio Oggi Yep Bella Sta Vratta Vratta 3x1 Into Removal Kikijiki Into Persa Bravo Natsu Commento Un paio Di partite Dopocena Beh Mazzo Vero Anche perché Aspetta Quando è che Io non faccio Mazzi veri Scusa Quando faccio 4 colori Speranza No ma anche 4 colori Speranza Sono mazzi Veri Non so un Cazzo Konga Non so un Cazzo Quindi Niente Mi ha soltanto Chiesto Simo Guarda Stasera è Open Chi vuole Entrare A commentare Passi Sì Fine Solo questo Bo Boh è tenibile Dai Quindi live finisce No io finisco Comunque verso le 7 Poi raido Simone Quindi rimanete qua E poi si raida Si raida Kira E tanto Inizia alle 6 Vuol dire che inizia Una gioia All'8 Beetle Cazzo Beetle Cazzo Mi scarto Il reattore Ho questa mano Questo lo vuole Il torneo Il torneo È Alchemy Historic Peccato Peccato Oddio Questo lo posso giocare Sparo Se ho Yamazaki Invece Preferisco sparare lui O il ninja Il ninja Muoiono tutti i ninja Esatto Buono Emilio fade Via Purtroppo Se rigioca L'ottimo Sniper 5 mana Niente Cazzo Madonna Che sei Perfetto Sempre Tutti Quanti Perfetti Siete C'ho 12 Gravelighter C'ho 12 Gloom Shrieker Non ho problemi Ho Season of Renewal Gloom Shrieker Cimitero E cosa mia Nessun problema Un altro ninja Vabbè fai schifo al cazzo Mi tengo la terra in mano Madonna Tre volte Beetle Mi farà Mi stai dicendo Che io devo giocare Camipasso No Oh questa spiase Per il doppio nero Ma Che devo fa Oh l'hai finite Le tue cazzate Eh Non attacchi i pussi Perché Vabbè io un po' di danni da infiltrato Li posso prendere Passo meno Non fa niente Questo adesso Lo sai che te lo rimuoverò Perché Va bene Opinabile Come mossa Però ok Dopo Kami e si pesca Posso dire Sono diventato Veramente bravo A montare Kamigawa Porca puttana Posso? Posso dire Questo mazzo è stupendo? Posso? Badino 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 94 Grazie per i tre mesi Badino Grazie mille Posso dire Numot de nummi Mi spiccia casa No era un po' troppo Paro paro Va bene No ma io amo scenderù Sti cazzi Voglio dire Sono messo piuttosto bene Mucotai Ambushe Va bene Vorrei farlo prima Della terra Oggettivamente Volevo fare exploit Sul 3-2 Lifelink Ma credo che farò Gloom Shrieker In Tukami Spacco il menas L'altro posso fare Una roba infinita Tipo No dai Ripendo il kami Sì Valore Valore imbattibile Vabbè se un po' mi fa Terminal Che devo fa Concedi Eh Esatto Giund Constructed Quante rare abbiamo? Quante rare abbiamo? Aspetta un attimo E so Kenzan Quindi 0 Ah no no Che cazzo dico C'è Kikishiki No no Aspetta Du Un Vabbè una Una rara No no C'è Kikishiki Sì ma si vince senza Kikishiki Cioè questa mazza è forte E basta Vedete le terre Il fixing Sapete Chi mi ha Convinto A piccare le terre Sopra i pick forti Per il futuro Silvia Silvia è la regina Dei tre colori Silvia è la regina Dei tricolor Silvia fa dei tricolor Su Kamigawa 6-7 vittorie Da Da toccassi peso Oh Nami Dette anime Edini anime Questa mi sa che è la mulli Butto un gloom E' la Ma Giustamente non è un drop a 3 In curva Non mi fa niente Riferisco mettere Ci un solitude Per il futuro Tutto gloom Lo deve esplodere Lo sai Easy mono verde Da fa terra visitor No no Questo scoppia Scherzavo Cambio di programma Oh cioè Oh cioè Nulla Nulla Quanto c'ha in mano Quante terre c'ha in mano Scusami Chiedo Io Forte Forte Aspetto Vabbè È solo removal Va bene Layable Layable Lo sapete Forse lo sniper È forte Abbastanza Da solo Da poter meritare Il season Singolo Forse no Rebuke Rebuke Madonna Non dite un cazzo Non dite un cazzo Questa è la giocata giusta Non dite un cazzo No dite un cazzo Bella Joe Eh non è da tutti essere il miglior giocatore di casa propria Eh vada Non va dato più scontato Eccolo lì Removal Niente Ah Non c'ho il mana sono un gonfio Ahia Ok non è equipaggiato Removal Removal Ora dalla cima Removal Può esserlo Ce l'ho Tesoro Mangio pippolo Facco Kirin Ora non mi fai un cazzo faccio un punto vita Opo pesca Oh 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 Diciamo che mi piace assai lui adesso Ma tanto proprio Com'è andata amore Non ho il rosso Porco Deagle Vabbè C'ho un rosso solo Vabbè non è uguale Ciao mane Eh ma ho giocato lo smelter Vabbè dai Uh E non vale così Tio madonna Palla narara Palla Palla A Grazie. 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 Vabbè, lo posso fare da uno, dai. Ma comunque bene. Dovrei avere l'Ital il turno dopo? Sì! GIOCATORE! Questo mazzo fa cose. Questo mazzo fa cose che ricordano il costruito. Quindi mazzo vero. Quando un mazzo fa cose che vagamente ti ricordano il costruito vuol dire che è mazzo vero. Ma già che ci sono, volevo ricordarvi che il nostro sponsor beneamato è Magic Corner, punto esclamativo Magic Corner. Magic Corner.it dove potete comprare le figurine di Magic ma anche di Yu-Gi-Oh! e Pokémon a prezzi ribassatissimi e ciò che non è già scontato dal sito potete scontarlo del 10% utilizzando il codice DELMO10. 10%. Non quegli altri siti sponsor che ti danno il 5% col codice creator. 10%. Magic Corner.it, signore. Pazzesco. Pazzesco. Magic Corner.it. Pazzesco. Ho vinto. La voglio fare di secondo. Non lo so. La voglio fare di secondo. Sì, sì. Moved. Pagnotta. Pagnotta 90. Il mio nuovo stigma. Amore. Grazie per i 4 mesi. Di Prime. E di lui usa il Prime. Quindi ha risparmiato, l'ha fatto gratis. Punto esclamativo Prime. Per vedere come ci si scrive gratis. E risparmiando sul Prime puoi comprare le figurine su Magic Corner col codice sconto DELMO10. Follia, follia. Questo canale è incredibile. Un canale è incredibile. Sì. Un fratello. Un fratello. Che lo va tolto. Ma va tolto? Credo di sia. Ho po' due terre a casa. Un fratello. Un fratello. L'ho montato in maniera eccellente. Eccellel. Bella 9. 42-9. Non si molla un pazzo. Dagene. Non si molla un pazzo. Si aiuta. Bravo. Grazie Nine per i 15 mesi di Prime. Sono tantissimi. Sono un sacco. Un aio. Eh, mi sa che ci saluta il 2-2 tesoro. No? Sì. Sì, ci saluta. Scarto so, Kenzan. Quante cose belle. Devo togliere ora il Raktor, però. Sennò mi spacca Kiki-Kiki. Posso fare troppe robe. Troppe. Posso dire che se mi spacca Kiki-Kiki lo riprendo? Mi importa una sega e qui voglio fare Beetle. Ah, questo si fa sempre. Sennò mi spacca Kiki-Kiki. Cambio di programma. Il nulla atomico. Perfetto. Ok. Allora, con estrema probabilità o può mi fare Raktor su Kiki-Kiki? Cosa buona e giusta. Casualmente Kiki-Kiki happens to be an incantesimo. Giusto? E ho po'... Mi sa che è a mucchia qui, eh. Oh po'. La mucchia. Fidati. Oh po'. Mano. Sei un fratello! Non lo sapevo eri un fratello. Bastava dirlo che eri un fratello. E scusami, eh. Ma non ha niente in mano. Pango. Non ha niente in mano. Preferisco tenermelo in campo e copiarmelo nell'evenienza, no? Questo me lo tengo. Non si sa mai fa beetle. Quello va tolto. Però vorrei aspettare Kiki-Kiki. Ok. Ho per togliere Kiki-Kiki adesso. Allora, va, va. Differente. Puoi fare quel che vuoi. Contro di me. Puoi essere anche top 100 mythic. Verzo. Sono il miglior giocatore di casa mia. Basta. Silenzio. 4-0 facile. Nemmeno facile. Non. Differente. Shiro. Ma. Differente. Ma. Differente. Probabile che io dia da mangiare il reattore Alla Anvil per iniziare il ciclo Anvil smerter Possibile Possibile Alla Anvil Bars, ho preso un miliardo e mezzo di... Eh, ninja Oioia No, K no, eh K no Oddio, è vero che siamo 4-0 Ok, niente caso Oh, cos'è questa merda? Ma cosa fai? Ma cos'è tempo 2-1 fortissimo? Ma sei pazzo di dei pazzi? Ma cosa cazzo stai facendo? Ok Ok, ok Ok, ok Pensa un po', me lo sarei mai aspettato Devo anche non saccarlo effettivamente Non, ho fermo Uh-huh The triggers, yes Non mi togli Anvil, è a puttane Anvil lo smelter deve togliere, sennò non fa niente Male, male, malissimo Ora non ho una risposta per Tails Per Shark Tails Ho detto che non devo giocare la terra Non la devo giocare la terra Caputena Ok, tutto a posto Pensa un po' Qui? Questa è un po' Segue Questa è un po' Eh, F Un po' Big F Oppo un noiosissimo Golgari senza rosso Allora dimmi te se si può giocare Giundo senza rosso Guarda veramente, non ho parole Può giocare Golgari senza rosso È un vile Zagre gas Peccato Questa la potevo giocare, non posso channellarla Vaffanculo Tocca Attenzione Riprende Beatle, ti prego No, è questa saga Giusto Quanto mano c'hai? Oh Cristo, c'ha l'1-1 Dimenticanza Dimenticanza Presi Questo va parato That's pretty good I'd say It's pretty good I'd say Yeah It's pretty good Yeah So, I'm gonna be Firing Eight, nine damage To his face Pretty soon Pretty soon Alve Let's go Oh, I think I'm in a good position Right now What's the matter What's the matter? What's the matter? Take four Yeah Take four Take four Take four Take four Take four damage Take four Ninja Niente Eeeh Quattro manata Che merdas Nulla Nulla C'è un cazzo Saprendi Il Dokuchi Il Beatle sul niente Ti prego L'unico modo vero Per giocare intorno a Beatle È stare al top deck Ragazzi Giocare due carte a turno Contemperi E dal top deck Godi Come i paperotti Quindi Nel prossimo turno C'ho il mana aperto Per sparare Cinque danni Nel viso A Tales of Merdas Uuuuh Eh no Eh no Non lo devo fare Uso il rosso Vai Alve Alve Ma va Bene Sì Posto posto E PEM Vediamo se Uppu attacca Uppu attacca Tutto Che trovi No Questo esplode Prendo Aaaaaa Ninja Sapevo Doveva avere qualche lacchezzo sporco e vigliacco Lo sapevo E' il maledetto Lifelink Eh qui se l'ho stappato di due Non era male per niente Proprio niente Lui mi sa che Tocca Cavallo adesso Aspetta un attimo Due Quattro Sette No No Non posso Troppo non posso Avevo Li Non avevo L'ital Non avevo L'ital Dovrei avercelo il turno dopo L'alto Uno dopo Sicuro Che è se tutto il turno di Se tutto il turno di Oppo E' saga Ho vinto Ciao Hai perso Cosa fai Due danni su smerder Poi 5-0 Cosa fai Posso dire gran mazzo Nonché giocato in maniera impeccabile Posso? 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 Posso Pensando Dai poi sempre me la tiro È un po' il personaggio Mi sono Rotto un dito prima Chiudendomelo nella cosa dell'armadio Non è rotto ma fa molto male Ora io voglio Che la gente quando chiede Dove guardo per imparare il limited La gente deve rispondere delmo La gente deve rispondere delmo Keep Senza rosso Io non ho ancora visto seismic wave una volta Montagna? Niente Andiamo per il limited Proprio per il costruito Effetto Top Oh Montagna dalla cima Oh Perza E questa è regalata Doveva succedere una partita che mi chiodavo Una Doveva succedere una Non è ancora persa Dopo non fa niente di chissà che Troppo forte E questo si toglie Che schifo Beh Vabbè Vabbè Questo si è tolto Nessun problema Prendiamo un po' di danni Un po' di danni Un po' di danni Che vuoi essere Un po' di danni Un po' di danni Che vuoi che sia Un po' di danni Un po' di danni Un po' di danni Dai Un po' di danni Un po' di danni Un po' di danni Oppo due terre in mano Io stabilizzo Questo si esilia Questo si spacca A posto A posto Sono a 6 E a 6 5 più di 1 Questo muore Che problema c'è Terra rossa Dai vinta Terra rossa vinta Terra rossa vinta Facilissimo Un po' di danni Che vuoi che siano Un po' di danni Su a 5 Non a 5 Però vado a 4 Morto Vabbè un po' di danni Vado a 0 Ho perso Lo sapevo che sia Ho perso Un po' di danni Va bene È successo Dai È successo La partita Dove il russo Non si è visto Va bene Va bene Va bene Va bene così Va bene così Una va bene Non ci chiediamo più A 5 0 A 5 3 Un attimo Non ci chiediamo più Non ci chiediamo più Visto? Quanto è facile Il gioco del magic Questo non ci vedete C'è E già Niente Fa reattore a vuoto Questa mi fa scurvare Vai Dopo parte sprint Dopo parte sprint Dopo quattro ore è pesante Dopo quattro ore è face hunter Ninja? Niente ninja Ok niente troppo a quattro E' perigroso E questo è perigroso E questa vince presto Io l'ho skippata Per la terra Ho fatto bene Dio sando Calmati Eh non sacca niente That's good Non para Per ora Ma gli toglie il mana E gli toglie il crew Se non ha altro Non ha giocato niente Oppo eh Oppo eh Oppo eh Oppo eh Chi ho dato di terre Con la mano pesante O c'ha una mano Tipo di solo risposte No c'ha bambuccia La bambuccia è forte La bambuccia è grosso Vosegiu Ma Vosegiu Non era meglio Tipo tenettela Vosegiu Vosegiu Non era meglio Tenersela In quella situa Scusatemi Chiedo Chiedo per un amico Mio fraterno Vosegiu Vosegiu Era forte Ah Che sei vile Che sei vile Ma no Anna mi sta distruggendo Solo con questo Minchia Tutto a posto Ok Rimuntata Si rimuntata Time Massi La mevda Oh si rimonta Uuuuh E questo è un rimontone Easy Ma se faccio Cami a vuoto Mi picchiate Fate bene E si mangia il bambù Attenzione Muro 3-3 Quello Grosso Stai attento Starei molto attento Ho l'impressione Mi sta per arrivare Tipo cura Non lo so Come mai Questo mi sa Di un mazzo E all'improvviso Ti fa il drago mitico Nemmeno tanto All'improvviso A certo punto Ti fa il drago mitico Attenzione Ok Presco 2 Dopo rifaccio Il jucai Poi posso Finalmente Fare il kami Invochi Gli antichi Lo sapevo Che faceva Il missile Degli dei Ok Ho perso Sam Vabbè c'è lo sniper Se me lo rimuove ho lo sniper Cos'è che c'hai? Il cazzo in mano Eh mi sa che ti stringo la mano E vado all'ultima All'ultima Niente anche con questo Doppio blocco su uno Mi muoio di chef Doppio blocco Eh siamo vivi Ora secondo te non c'ha un removal qualcosa? Io lo so che siamo vivi Ma secondo te non fa niente? Persa Vedi? Facile Madonna da 5-0 a 5-2 Vabbè è normale Ora si trova 5-0 Ho sete e non ho acqua in questa casa Ah prendere il succo di frutta Soffo co Devo bere qualcosa Soffo co Soffo co Grazie a tutti bevi un coppino di vino si ma le carte di neon kamigawa cazzo alchemy quando escano maledetti tutti non le so allora ragazzuoli domani io streamo prima l'avevo già detto no? lo guardate domani io streamo un po' prima dovrei streamare tipo dall'una alle sei o meno un po' domenica festa oi 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 è in mano aggressiva ci piace si pango ormai silencer viene messo nelle list fintai fastidioso dire fastidioso dire fastidioso tocca tocca attenzione rivale degli dèi quanto c'hai emperor aspetta no fang of shigeki non lo blocca mai quindi faccio tempered arrota tutto washi son washi son bashi fan faffi 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 pezzo piccolo lo para invece subduer quanti ce n'hai ottima terra ottima terra sono ottima terra sono solo un ragazzo povero non voglio la tua pena lodis cosa c'hai cosa c'hai non c'hai niente brutto vile pezzo di fango c'è qualcosa di leggendario no no grazie samurello samurello viaggi samurello viaggi è forte pochè mi piace i vippoli that's nice con tre danni saluta vena si fa i vippoli dopo si fa i vippoli l11 notevole chicco 1-1 è forte forte lui è stronzo stronzo tonnelliere muovalino e si gode mannaggia ha senso fare tipo qualsiasi cosa adesso io aspetto quello è grosso quello è grosso dovrà muore cazzo una fang tiro facciamo danni gratis a vanver un dannino gratis prego ecco questo va fedato secondo me questo si feda clock di 10 turni boys imbattibile ciao maffi tutto ok siamo 5-2 appena pesco qualcosa che è vagamente più forte di niente si vola opinabile ok ciao ciao non giochi più anche questo da copiar non è male però sinceramente bloccarlo out of dal gioco non mi dispiace vabbè era una terra un po' se non concede ora diciamo che è dura diciamo che ora è abbastanza dura giocare senza pescare deve giocare soltanto istantanei fondamentalmente deve pescare no non concede se non concede vuol dire che ha un removal instant perché chichi che c'è che c'è che c'è che c'è E che poveretto Il gioco mi permette di farlo L'altro bloccante è infinito L'altro sta pescando anche di merda Aspetta Prima guardo se attacca Ah devo mettere lo stop Devo mettere lo stop Devo mettere lo stop Sì 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 Devo mettere lo stop Se c'è una pescator Non Oppo sta allocato Eh? Oppo mi hanno detto Stun lock Che si fa? Che non cede? Sì sì ma Situazione kafkiana La situazione del kafko Esatto È l'Ital È l'Ital È l'Ital È l'Ital Pensi che io voglio chiudere questa partita attaccando? Che tempismo perfetto Oppo bravo Pensi che Pensi veramente che io voglio chiudere quella partita attaccando? Ma non ci siamo capiti Un conto è vincere una partita di magic Un conto è prendere i sentimenti di una persona Metterli in bocca Masticarli Farne bolo Sputarli E calpestarli Lei è molto sadico Non capisco perché odiava Rogs in M21 Perché questo è draft In draft devi essere una merda In draft devi distruggere i sentimenti delle persone In costruito in quattro turni devi chiudere Io avrei concesso molto prima No L'idea è che Sicuramente aveva del removal istantaneo rosso Maffi la metti su Twitter taggando MTG Top 5 Vinta L'ho vinta un po' troppo però Iniziamo a prendere verde ma Attenzione giundio droppa un codice Giundio droppa un codice Ripeto Giundio droppa un codice Chi se lo prende? Boss fight di nuovo Boros Cioè è scattata la moda del samurai Perché è sempre aperto Non lo prende mai nessuno La gente si fossilizza sul verde E quindi Boros Tutte le carte forti Ti arrivano Mardu Mardu lui È proprio Mardu Forte Non fortissimo Sai che a questo trado io Boros Carte Devastanti Allora due su tre carte Ce le ho anch'io di queste C'ha nel Fireball Maffe Io devo dover prendere altri danni Per poi stabilizzare Ok Questo lo faccio subito Per guadagnare un punto vita Lo chiamavano Bocca di mirror Metteva il mirror Metteva il mirror Lo chiamavano Bocca di mirror Metteva il mirror Sopra ogni cosa Sbaglia sacrifica Anvil No Niente Sì io pesco verde Ho vinto Però c'è il fatto che io Ho già iniziato Il girettino Quindi tecnicamente Si può dire Che in questo momento Sono in vantaggio Perché io posso attaccare Tutti i turni Lui no Lui non ha un artefatto Che vuole serificare Ad Anvil Capito E' quello il discorso Cazzo Vabbè Continua a non avere un artefatto Questa è grossa Però non troppo Ora se io pesco doppio verde G to the G It's M to the B M to the B It's M to the B It's M to the B It's M to the B Bon Attenzione Perde l'incantesimo No mi ferma But that's nice Intelligente Posso lasciarlo Con un 4-4 Io ho paura Di quello smerder Sì zio E' uno Stramirror Sono le Tessei Mardu E io sono Giund Vediamo chi ha ragione Vediamo chi cazzo Ha ragione Opponent Vediamo chi cazzo Ha ragione Hai ragione Hai ragione Tu Beh no Ho fatto Chissà che Eh Vieni Perché ora ci ria All'incantesimo Figa Bene Eh Non bene Devo pescare Botto Oh Dunque è bello finire su un mirror degenerato in questa maniera Ah figa Ah Madre de dios Spacca la anvil E' meglio bohare subito Eh devo sta buonino Rischioso pesca la anvil pesca la doppia verde prima o poi Però pesca la doppia verde qui è greve eh Giù da lì dai? Siamo al boss fight bro Siamo al boss fight Oh 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 Cattura un veicolo Ok non può riprendere anvil Quindi riprenders lo smelter Nel caso No 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 Grazie. Non si picchia. Non si picchia. Old. Certo è old. Old a 6.000. Old. What the? Old. 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 Ofermo. Bella Ale. Ale o 28 e siamo a 7 tette. Grazie per i 7 mesi. Siamo a 7 tette. Va bene Tanto il girettino dei pippoli è finito Ora la strategia cambia Questo è molto buono No problem Ora si picchia Ora la strategia cambia Male Male cane male Io sto aspettando una carta ragazzi Questo fade Per togliere il frammento di conta E farevo il kick sul boar Senza boar non passa più Ecco l'errore Ecco l'errore Eccolo l'errore Vieni 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 No figa Cazzo questa aspettavo La stavo aspettando da tutta la vita Stavo aspettando questa carta da tutto il game Per non farlo pescare Giuro Stavo aspettando questa cazzo di carta da tutto il game Per non fargli pescare da frammento Dai Odore giusto Vabbè Eccola lì Che come esplodi bene Dopo Come esplodi bene dopo Beh non travolgono Oh no Buono Buono Ho preso l'Ital Madonna Madonna ora trova il modo di uccidermi E impazzisco Befrending the moz Morti Top deckato volante Top deckato volare Io lo so Farewell non vince Farewell Io c'ho sniper in mano Va a uno Farewell No no Befrending the moz Stacca il leone E mi attacca volando Io lo so Io lo so A casa A casa Vattene Vattene Sette vittorie Giund Giund superiore Mardu Confirmed Giund superiore Mardu Confirmed Confirmed Posso fare il pezzo Di merda Paro con Kikikiki Vaffanculo E si gode Sette vittorie Giund Giund Cose Sette wins Giund Bellissimo Questo è il mazzo Più bello Allora quella partita Ho perso della partita Per il mana Una l'ho persa giocando Una l'ho persa per il mana Malissimo Peccato Ma questo è il miglior mazzo Non il più forte Non il più forte È il mazzo più bello Che ho fatto con Kamigawa Non il più forte Il più bello È il più È forte È forte Vabbè È anche forte C'è 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 Kikikiki Che è rotta Anvil È rotta Però è proprio Bello Questo mazzo Questo mazzo È proprio L'essenza Del draft Di Kamigawa Bisogna osare In Kamigawa bisogna osare Perché se non osi Non godi solo a metà Bello 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 Sa che lo metto su youtube Sì Non lo stavo registrando Taglierò il VOD E lo metterò su youtube Quindi Signori del tubo Che anche se non vi piace Il limited Spero di sì Perché questo è stato Tranquillamente Il miglior draft Che ho fatto Di Kamigawa Le partite più belle Il mazzo più interessante Quindi se siete arrivati Fino in fondo a questo video Mettete un like Commentate A papaya Scrivete A papaya Nei commenti E ci vediamo Tutti i giorni Nel server Della gleba Live Viola Quindi un salut Chat Salutate il tubo Perché sì Ho deciso Che questo Questo mazzo Ce lo metterò Per forza È bellissimo Bellissimo Mazzo incredibile Anzi Mazzo incredibile Ma che mazzo è Era Voglio riguardare I miei pick Però